I 12 sono una squadra amica, ma anche un temibile avversario, come tutti del resto. Affronteremo la sfida come abbiamo sempre fatto, cioè con grinta, volontà, passione e tanta voglia di vincere. Le barbare di oggi non sono altro che il risultato di due anni di duro lavoro che abbiamo fatto con i mister. Da giocatrici, mister, staff tecnico, ma soprattutto dai sifosi. Li ringrazio per tutte le volte che vengono a seguirci, li saluto con affetto e niente, forza barbare!